Attilio Cubeddu, nato ad Arzana il 2 marzo 1947, è un criminale italiano che ha fatto parte dell'anonima sequestri. È stato inserito nell'elenco dei latitanti più pericolosi d'Italia, è stato coinvolto in vari sequestri e omicidi, incluso il sequestro di Giuseppe Soffiantini. Dopo essere stato arrestato e condannato a 30 anni di carcere, è evaso durante un permesso premio nel 1997 e da allora è latitante.